Arrivano gli assegni per il mese di aprile di quest'anno per le persone con disabilità gravissima, 14.750.323 euro. Questa la spesa complessiva erogata, di cui 633.643 euro come budget aggiuntivo per la liquidazione degli arretrati del 2020 e 2021. Più di 12.000 in Sicilia dunque gli assegni pagati e per l'esattezza 12.171. A Caltanissetta sono 912 i destinatari del sostegno. L'assessorato regionale alla famiglia, alle politiche sociali e al lavoro ha provveduto dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale della legge di stabilità 2022-2024 a portare a termine le procedure di liquidazione delle somme, si precisa infatti nel comunicato stampa. Gli uffici, sottolinea l'assessore Antonio Scavone, avevano preparato il prospetto già da tempo, ma la pubblicazione della legge di stabilità si è protratta di qualche giorno e ha di fatto rallentato l'erogazione della mensilità di aprile. Ho chiesto al Dipartimento di provvedere con una certa celerità anche alla definizione dei pagamenti per i mesi di maggio e giugno prosegue. L'impegno del governo musumeci su questo fronte è sempre stato costante. Continueremo, conclude, a garantire la nostra presenza e il nostro sostegno alle persone con disabilità e ai loro familiari.